All'arrivo della volante della polizia era già troppo tardi. Anche l'intervento dei sanitari del 118 è risultato del tutto inutile per salvare la vita di un 46enne pesarese, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, nello scivolo del garage dell'hotel Imperial Sport. Ad accorgersi del cadavere di GR, queste le iniziali dell'uomo, intorno alle 17.30 è stato un operaio intento ad effettuare lavori di manutenzione alla struttura alberghiera chiusa nei mesi invernali situata in via Ninchi, traversa di viale Trieste. La successiva identificazione della vittima ha permesso agli inquirenti di scoprire che l'uomo, soltanto poche ore prima, era uscito dal carcere di Villa Fastigi nel quale si trovava a causa di una rapina effettuata diversi mesi fa. Il ritrovamento da parte della polizia scientifica di una siringa accanto al corpo ha lasciato da subito pochi dubbi sulle cause che hanno scatenato il decesso dell'uomo, nella cui vita sembrerebbero essere intercorse alcune problematiche legate alla tossicodipendenza. Le forze dell'ordine sono ora alla ricerca delle persone con cui il 46enne è entrato in contatto prima del decesso. In particolare, le indagini della polizia sono volte a scovare lo spacciatore dal quale la vittima ha acquistato la dose divenuta poi fatale.